Si conoscerà venerdì il destino del corso di laurea in servizio sociale di Modica, un destino che tuttavia appare errosio, stanno almeno alla visione ottimistica del neodirettore Gian Piero Saladino. Venerdì si terrà un incontro risolutivo a Messina tra il presidente del Consorzio Universitario di Bleo, Enzo Di De Mondo, e il rettore dell'Università Peloritana, Francesco Tomasello, per stabilire il da farsi. Dal vertice messinese si attendono novità rassicuranti per far partire le lezioni, alla luce dell'enorme ritardo fin qui accumulato. 180 studenti circa del corso di laurea di servizio sociale al momento studiano solo storia contemporanea e storia moderna, le uniche due discipline in corso, ma anche le altre lezioni potrebbero partire a breve. Venerdì mattina il presidente del Consorzio Universitario sarà a Messina per incontrare il rettore e confidiamo nel fatto che da questo incontro possano derivare risposte risolutive, considerato che il territorio è assolutamente in regola nei suoi rapporti con l'Università di Messina. Insieme, in parallelo a questo processo di attenzione alla problematica dell'Università e quindi degli studenti con i quali siamo assolutamente solidali, abbiamo avviato e sviluppato attività parallele. Intanto si moltiplicano le iniziative per incentivare il corso di laurea. Giovedì sarà presentato il libro Alleanze nell'ombra, mafie ed eco-mafie locali in Sicilia e nel Mezzogiorno di Rocco Sciarrone. L'1 e il 2 dicembre ci sarà invece un convegno dal tema alle nuove regole del welfare, senza contare i corsi di perfezionamento e aggiornamento.